segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te la rosalina molto duri molto pesanti contesta la vostra inchiesta in tutto e per tutto sviluppi dell'inchiesta tra poco vedremo un'altra parte importante del vostro lavoro a te la parola sì ho sentito la discussione ho ascoltato la discussione come si è sviluppata io noto che ci sono diciamo due o tre tipologie di difesa oltranza diciamo del metodo shalom che non mi permetto di giudicare ma una è che ci sono comunque persone che sono entrate in quel contesto e sono uscite dal problema che avevano la seconda è che in guerra tutto è concesso come ha detto il padre prima nel servizio il fine giustifica ogni mezzo e la terza quella che abbiamo sentito nella scorsa puntata è se si attacca shalom si attacca anche la chiesa io va bene diciamo prendo atto di queste difese però vorrei che si parlasse di quello che abbiamo visto all'interno dell'inchiesta non diciamo si cercasse sempre di sviare il discorso su altro e quello che abbiamo visto lo ribadisco un'altra volta sono isolamento e privazione del sonno sono violenze verbali e violenze fisiche sono molestie di tipo raziale e di tipo sessuale è lavoro non retribuito e vediamo altre situazioni sono psicofarmaci scusate che sono distribuiti da personale non sanitario e dicono alcune testimonianze diverse testimonianze con dosaggi diciamo a volte non corretti vado avanti c'è un tema questo che è stato sollevato non solamente dalla nostra inchiesta sotto copertura che ha avuto la sua durata e del quale diciamo ogni volta si contesta al montaggio artatamente costruito ma sono state confermate successivamente alla nostra inchiesta io lo contate pochi minuti fa aggiungo quella che avete fatto voi da più o meno 50 testimonianze ulteriori che ci sono arrivate senza che andassimo a cercarle molte delle quasi a volto scoperto quindi i ragazzi che si prendono ragazze ragazze che si prendono la responsabilità di quello che dicono che più o meno coincidono tutte nel raccontare della buca nel raccontare della legnaia nel raccontare del laboratorio nel raccontare di tutta una serie di situazioni che trovano conferma nel racconto di ciascuno i cani la privazione delle scarpe levate i tentativi di fuga sembra mi sembra importante mi sembra importante giusto condivido riportare al centro del tavolo quello che si è visto perché le inchieste giornalistiche servono a mostrare allora ogni volta e c'è il montaggio e c'è il il complottismo e c'è il retropensiero noi abbiamo comunque visto delle cose abbiamo visto delle persone che dopo quelle cose hanno testimonato avviso scoperto ci hanno messo la faccia alcune sono persone che nel frattempo sono fatte una famiglia hanno avuto dei figli insomma abbiamo il dovere di prenderle sul serio il dovere di ascoltare